L'obbligo di legge è pari al 65%, in Puglia però la raccolta differenziata è solo al 25,9%. In pratica la gran parte dei rifiuti finisce ancora in discarica. Tra l'altro l'autorità anticorruzione ANAC ha messo in luce che i comuni tendono a prorogare gli appalti di smaltimento alle solite ditte senza fare gare. Regione e comuni hanno gestito spesso il trattamento della spazzatura con ordinanza ed urgenza in deroga le normative e questo è il quadro della situazione rifiuti in Puglia tracciato dal ministro dell'ambiente Gianluca Galletti alla Commissione Ambiente del Senato. La raccolta differenziata nella regione Puglia nel 2014 ammonta a 493.741 tonnellate, ha detto il ministro. Tale quantità rappresenta solo il 25,9% del totale dei rifiuti prodotti. La più virtuosa delle province di Puglia è quella di Brindisi dove la percentuale di raccolta è pari al 47,7% mentre le percentuali più basse si registrano a Lecce 19,9%, Taranto con 18,8% e Foggia 18,2%. A luglio 2016 la differenziata è salita al 33,99%, ma il livello della raccolta è ancora modesto. La valorizzazione energetica a pare esigua, mentre il ricorso alla discarica risulta predominante. In Puglia non mancano gli impianti di smaltimento, continua Galletti, 9 di compostaggio, 1 di digestione anaerobica, 13 di trattamento meccanico-biologico, 1 di incenerimento, 14 di scariche. Tuttavia la gestione dei rifiuti nella regione Puglia si contraddistingue per il ricorso da parte di regione e comuni alle ordinanze urgenti per derogare disposizioni di carattere tecnico relative ad alcuni impianti e per consentire la parziale delocalizzazione delle attività di trattamento al di fuori del lato di produzione.